C'è iniziata la stagione, prime parole a questa squadra, un gruppo totalmente giovane e forse anche di più rispetto all'anno scorso, campionato però diverso. Un gruppo tanto giovane, però abbiamo inserito per quanto riguarda la 1 delle atlete straniere a completamento dell'organico che di grande fisicità soprattutto perché rispecchiano un pochettino quella che è la mia idea cestistica, oltre al fatto dell'inserimento delle atleti italiane come bonasia, tagliamento per quanto riguarda il discorso Serie 1. Completato con l'arrivo di Monique Njok che chiaramente ci dà ancora più forza fisica, esplosività e quindi gioco anche longitudinale, quello che piace molto a me che è poi un po' la caratteristica del basket di Serie 1 dove noi ci dobbiamo prendere un po' le misure. Poi sono arrivate tante ragazze giovani a completamento di un organico importante, lungo, profondo, che ci daranno la possibilità di continuare quel progetto che il padron Rosini ha messo un po' in piedi negli ultimi anni, partecipando anche al campionato di A3 con un solo gruppo under 19, proprio per confrontarsi su un basket di un livello superiore e non soltanto le partite nella fase regionale di under 19 che non avrebbero senso per una crescita tecnico-tattica. Per cui c'è tanto da lavorare, c'è tanto materiale, tante ragazze del settore squadre nazionali, anche impegnate col settore squadre nazionali. Io credo che noi come staff tecnico siamo solo strafelici, onorati di poter andare in campo e lavorare veramente e non gestire i gruppi di senior che normalmente mi è capitato anche in passato di essere più un gestore di aziende che camminavano. Qui invece dobbiamo formare, dobbiamo metterci del nostro, giorno dopo giorno sarà difficile, però è bella come sfida, come lo è stata l'anno scorso. Sarà difficile ripetere un risultato così importante e eclatante, però non mettiamo mai il carro davanti ai buoi e vediamo un po' quello che vedrà fuori. Siamo molto contenti, siamo stimolati e abbiamo voglia di iniziare questa annata sportiva. Sei contenta di questa nuova avventura? Che esperienza è per te? Importante per la crescita, vieni dal college americano, per la tua carriera? E' pronta ad imparare e a fare sempre meglio e quindi a crescere sempre di più. Quali sono le sensazioni su questi ultimi giorni a Battipaglia? Ho piaciuto il mio tempo qui oggi, sono contenta di esplorare più e di vedere Battipaglia. Battipaglia, ok. Ha detto che vuole esplorare Battipaglia ma finora ha avuto modo di vedere già abbastanza e le piace. Gli obiettivi di questa stagione? Gli obiettivi di questa stagione? Vincere, vincere, è forte e vincere. Lucrezia, è iniziata l'avventura a Battipaglia, prime sensazioni dopo queste primissime ore vissute in questo ambiente? L'ambiente è molto amichevole, amorevole, possiamo dire. Le ragazze non le conosco ancora tutte, però da quello che posso dire sento sono tutte molto aperte, non c'è nessun caso un po' arrogante o prepotente, però vedremo, sono abbastanza tranquilla su questo. Si parte con l'Andero 19, il Presidente ha parlato delle finali nazionali, di una possibile eventualmente vittoria. C'è la Serie A3, soprattutto la Serie 1, che quello può essere il traguardo più importante guardando al futuro per te? Allora, per essere sincera, io in questo momento miro molto di più all'Andero 19, anche perché mancano due anni per la fine delle giovanili e sicuramente riuscire ad arrivare ad un risultato abbastanza lontano sarebbe una grandissima soddisfazione. Poi l'A3 è stata fatta appunto per noi, così da poter creare un gruppo più coeso e poter giocare di più, così da poter dimostrare in campo cose più profonde. E comunque l'A1 è un sogno, perché io neanche mi sarei mai immaginata di 17 anni poter soltanto avvicinarmi alla panchina dell'A1. Quindi sì, un grande obiettivo, però in questo momento mi concentrerò un po' di più sull'Andero 19. Ovviamente, ripeto, arrivare alla panchina soltanto dell'A1 sarebbe un'emozione fantastica. Poi mettere i piedi in campo, non lo so, soltanto la puntina, così sono stata anch'io nel campo dell'A1, però vedremo. Capitano, ormai così bisogna definirti, Mare De Orazzo, esperienza nuova, esperienza penso già gratificante. Sì, sicuramente dopo la promozione dell'anno scorso, essere nella prima divisione in Italia sicuramente è una cosa molto gratificante. Poi viverla da capitano così subito, alla prima botta, lo è ancora di più. Si sente un po' la pressione però per questo ruolo? Sì, un po' di pressione, sicuramente ci sono tante responsabilità a gestire un gruppo così giovane, però è sempre più bello esserlo che non esserlo. Parlare di obiettivi è difficile, è una squadra totalmente nuova, si sogna però partendo dalla salvezza? Sì, si sogna partendo dalla salvezza, comunque all'inizio sappiamo che avremo delle difficoltà, dobbiamo allenarci e lavorare costantemente, poi i risultati arriveranno pian piano come alla fine è stato l'anno scorso. In questi primi due anni vissuti a Battipaia hai visto la Battipaia bella, grande palazzetto sempre pieno, può essere un fattore importante in questo campionato per voi? Il fatto che l'anno scorso abbiamo perso una partita in casa è sicuramente dovuto anche all'immenso pubblico che c'è stato ad ogni partita, per noi è un fattore molto importante, infatti ci auguriamo che l'anno prossimo sarà lo stesso, vedere il palazzaule cremito di gente come l'anno scorso. 12 mesi di lontananza possiamo definirli così e poi ritorno a Battipaia, non solo maschile ma soprattutto femminile, assistente in Serie A1, capo allenatore della Serie A3, i compiti aumentano e la responsabilità anche? Sarà un impegno abbastanza interessante da affrontare perché sono molto contento di essere tornato qua, soprattutto a lavorare con Massimo Riga per come interpreta il lavoro di staff e quindi questo lavoro che sarà fatto di A1 e di A3 sarà un lavoro molto appassionante da affrontare durante tutto l'anno. Lavorare insieme, Serie A1 e Serie A3 può essere un vantaggio per entrambi? Beh, per le più giovani sarà un'esperienza secondo me importantissima perché affrontare il campionato di A1 e affrontare i giocatrici di A1 le farà crescere molto, per me invece lavorare con Massimo sarà un percorso importante e poterlo riportare poi nella A3 e nell'Under-19 insieme a lui sarà sicuramente un gran percorso da affrontare con tanta attenzione e arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati. Gli obiettivi non mancano, è un gran percorso, una stagione importante sotto tutti i punti di vista? Beh, trovare diversi obiettivi in una stagione è una cosa che stimola tanto, cioè la A1 dovrà affrontare il proprio campionato per raggiungere sicuramente la salvezza ma può provare ad arrivare anche un po' più in alto se ci si riesce. Con la A3 fare un campionato dove le giovani possano crescere ma anche provare a vincere le partite perché credo che vincere le partite significhi tanto per la crescita delle ragazze e poi l'Under-19 abbiamo dei prospetti importanti che dobbiamo provare a far crescere anche in questo caso per arrivare al massimo obiettivo con l'Under-19.